Adesso è ufficiale, Max si torna in Brasile per questi mondiali e per club 2014, avete già partecipato in quattro edizioni a Doha, poi quella successiva a Brasile per te è una piacevole abitudine ma anche un momento d'orgoglio per la squadra? Sicuramente per tutti, per la squadra, per la società, per la città, la federazione ha deciso di invitare noi, siamo naturalmente strafelici, una grandissima occasione, sinceramente non me l'aspettavo assolutamente, però bene, sono molto contento, in Brasile è stata un'esperienza bellissima, e quindi avremo adesso un po' di giorni per preparare al meglio queste partite, una grandissima occasione anche per riscattare un po' il finale di stagione che non è stato dei migliori. Ti sei già posto a un obiettivo minimo? L'obiettivo minimo è sempre il podio, assolutamente, perché salire sul podio in una competizione di questo livello è un obiettivo sempre importantissimo, insomma, ci saranno naturalmente squadre forti, perché credo ci sia, insomma, Belgoro, Giussada, saranno squadre toste, però noi vogliamo arrivare lì, vogliamo confermarci, possibilmente migliorare il risultato di ottobre. Martin Peder, preparatore atletico della Trentino Volley, come si prepara un mondiale per club? Tra l'altro la notizia è recentissima, quindi non hai avuto nemmeno forse tanto tempo per pianificare. Sì, infatti è una bella novità, credo anche un onore, però comunque è molto difficile essere a fine stagione e preparare di nuovo un evento di questo genere, perché ovviamente gli atleti sono stanchi e, insomma, dopo una stagione intera, come abbiamo fatto la nostra, fare adesso un altro evento così, diciamo, clou, sarà un po' difficile, però ovviamente cerchiamo di trovare i metodi ideali per tirare fuori il massimo possibile. E tra l'altro non ci spogli anche a basare sulle preparazioni che avevi fatto in passato per questo trofeo, perché di solito si arrivava all'inizio della stagione, mentre questa è alla fine, quindi assolutamente condizioni fisiche anche diverse. Sì, certo, assolutamente, in più è una cosa così all'improvviso, perché se si sapeva magari molto prima si poteva già calcolare un po' o già mettere già qualche allenamento specifico, invece adesso ci troviamo a, diciamo, a rivoltare tutto da capo. Stimolante però? Per me è molto stimolante, perché credo un campionato del mondo per club, per ogni club è una cosa bellissima e stupenda.